Prova, prova, prova. Prova, prova. Prova di lettura. S, S, Str, Str, Str. B, B, Blah. Questa è la mia mica facciale. Non è tanto facile leggere quando sto così e tremo. Quando tremo, allora tremo tutta. Tutta. Fermati. 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 Prova. Prova, prova, prova. Il mio corpo si è fortunatamente fermato. Stava andando alla deriva. Quanti corpi che vanno alla deriva. E noi non sappiamo. Prego. Perché? Ah, ma la signora mi delude. Come perché? Mi sono truccata. Non sono, non sono un'aborigena. No, non sono neanche una guaranì. Ma può darsi che ti riprenda qualcosa da loro. In fondo la tribalità è qualcosa che mi piace tantissimo. Questo andare per viaggio per tempo. Saltare e saltellare da un tempo all'altro. Da un tempo all'altro. E clic e cloc. E clic e cloc. E poi alla fine del viaggio che cosa rimane? Bu. Questo. Questo. No, no. Capisco. Capisco. Capisco che così passa il tempo. E passa, come dire, inutilmente? Sì. E allora che c'è. C'è questo non basta di una cellula cancerogena. La confessione di una cellula cancerogena mio caro corpo questo è un addio per troppo tempo t'ho vissuto pesantemente sottoposto a servigi di intensa attività pluricellulare per la sopravvivenza di ogni singolo organo umano do male no grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti